Le conseguenze dei nostri ritardi sono sotto gli occhi di tutti e sempre conseguenze nefaste. L'intensificazione della frequenza delle catastrofi naturali è evidente e condiziona ogni aspetto della nostra vita, devastando interi territori, mettendo vittime. Di fatto, le conseguenze del cambiamento climatico e dei nostri ritardi nella sua mitigazione privano dell'elementare diritto alla vita molte persone, costringendole spesso alla fuga dei luoghi che abitano in cerca di sopravvivenza. Se vogliamo lasciare alle future generazioni un pianeta dove l'umanità possa vivere e prosperare in pace, ovunque, in ogni luogo, in ogni continente, dovremo compiere tutti insieme progressi decisivi. Germania e Italia, insieme, possono fornire un esempio concreto di responsabilità e di cooperazione.